Bene, durante questo nuovo video, oggi farò il taglio delle cento domande, anche per conoscere un po' meglio. Scusate se sto guardando qua, sto cercando a mettere il foglio che cade su. Allora, nome, Elena. Soprannome, allora. Per le mie amiche ero un N, o patata, o bandina. Se no, è N, per i miei parenti. Il numero di candeline sull'ultima torta di compleanno? Ebbene, sì, l'anno scorso, quindi. Data in cui spegni quelle candeline? Il 8 luglio. Seni particolari? Seni particolari, quel buchino lì, che è una caduta di quando ero piccola, e altre cicatrici sui ginocchi per quando sono caduta sempre la piccola. Luogo di nascita? Rovigo. Rovigo nel Veneto. Altezza? 1,52 m, 56 m, non lo so. Però sono bassa. Colore degli occhi? Azzurri, non so se si veda, ecco qua, azzurri, a volte sono color ghiaccio, in base al tempo che c'è fuori, o grigi. Colore dei capelli? Beh, si vede qui, sono neri, ma se vedete un po' più qua, se vedete non si risposta la luce. E se ci sono qualche punto più chiaro, adesso fate qui. Mi sono appena lavati, ma vedete se qualche punto più chiaro, quindi il nero sfumo che va in degradé. In degradé. Ah, è super. Numero di scarpe? 38 o 39, in base alla scarpa. Quindi se è un tacco, ad esempio, è proprio un 38. Una scarpa da tennis va in base a un 38 o un 37. Occhiali, sì, da riposo. Piercing, ne ho uno qui, diciamo che è il secondo buco. In futuro si spera di fare questo, però si spera che... Tatuaggi, no, però in futuro. Animali domestici, sì, tre. Gatti. Uno gattino piccolino e due grandi. Ti piace il tuo lavoro? Beh, al momento sono... Scusate. Cioè, sto cercando un lavoro, però a volte faccio la babysitter e a volte faccio la ricostruzione anche. Quindi sì, mi piace il lavoro che faccio. Ti sei mai ubriacata? Sì, sono ubriacata. Ti sei mai innamorata? Sì, mi sono innamorata. Credo che sia stata l'unica persona che ha morto, veramente. Hai già morto qualcuno al punto di piangere? Eh, sì. È la persona di cui mi sono stata innamorata, quindi sì. Hai avuto incidenti in macchina? No. No. Stavo pensando no, perché io a parte che non guido. E comunque con parenti e gli amici no. Ti sei mai no? Ops, scusate. Hai avuto incidenti in moto? Uno, il scooter. Vino rosso o vino bianco? Allora, vino rosso sì, mi piace. Per i pasti, per il caso o mai. E il vino bianco solo quando è dolce. Coca-Cola o Pepsi? Credo entrambe. Credo. Anche perché se bevo, li bevo quando vado fuori a cena, oppure in un bar magari, perché purtroppo posso bere poco alcol. Quindi evito di bello certe volte. Per problemi miei personali. Lemon soda o rossoda? Entrambe. Perché mi piace anche con l'entrambe, ma come ho spiegato prima, evito di bere cose gasate. Caffè normale o caffè macchiato? Macchiato. Sempre macchiato. Caffè normale vuol dire che proprio sono... O sto male, o sono veramente stanchissima e ho bisogno di svegliarmi, quindi è caffè normale. Caffè zuccherato amaro. Zuccherato, anche se a volte lo prendo... Ecco, quello normale lo prendo amaro. Certe volte. Copertone. Sì, copertone. Coperta o piumone? Allora, aletto o piumone? Coperta quando sono in divano o così. Anche se a volte ho usato anche il piumone. Secondo me la cera. Lasciare o essere lasciati? Entrambe le cose sono dure, perché io sono stata lasciata... Adesso ho anche lasciato. Non saprei. Credo entrambe sono dure, quindi entrambe non vuole mai che succedessero. I colori calzini sono o colorati o grigi, con delle fantasie. Numero favorito? Io non ho un numero favorito. Scusate se prendo una cosa fatta da proprio per leggere. E non ho un numero favorito, quindi non saprei dire lì. Film preferito? Fast and Furious. Perché è legato alla mia famiglia, quindi ha una parte importante per me. Sì, vedete che prendo l'agenda perché ho le citazioni scritte qua, perché dopo ho la citazione. Allora, io ho una, due, tre, quattro, cinque, sei citazioni che mi sento mie, come sono anche sull'agenda che ho trovato in qualche pagina Facebook. Non mi ricordo più come fosse. Allora, ve le leggo e le dico a tutte quelle persone che sono a volte giù o credono di non farcela. Ce la fai sempre, anche quando non ce la fai più. Ricordatevele sempre. Soprattutto questa. La bellezza non è avere un bel viso, ma avere un buon cervello, un cuore gentile e soprattutto una bella anima. Poi, nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo permesso. Mai farvi sentire inferiore da una persona che magari è più inferiore di voi. Scusate la mia. Perché voi sarete sempre superiore a quella persona. Chiunque egli sia. Senza musica la vita sarebbe un errore. Io sono molto legata alla musica perché per certi aspetti mi lega certe persone e quindi ogni musica per me è vita. Quando sono giù ascolto solo musica. Saranno i passi brevi che ti faranno capire anche, no, ti faranno capire lunghe distanze. Non avere fretta, passo dopo passo arriverai ovunque. Ecco, non avere fretta di fare una cosa. E piano piano tutto sia vera o succede, succede, succederà. Poi, ultima, ma non meno importante. Anzi, credo che sia la più importante dopo la bellezza e non far via battere a nessuno. Adoro le persone che mi fanno ridere. Penso che ridere sia la cosa che mi piace di più. La cura per moltissimi mali. Infatti devo ringraziare tanti miei amici. Perché tanti miei amici. Solo alcuni riescono veramente a farmi sorridere, a parte la mia famiglia quando sto male. Ma anche solo un male, non so, fisico. Ti fanno tirare tutto il generale. Poi, allora. Computer PlayStation. Che do computer perché la PlayStation... Oh, scusate. La PlayStation... Non mi piace. Ecco, se mi dici Wii, allora ti dico Wii al posto del computer. Il giorno della settimana. Il giorno della settimana forse è il mio preferito al weekend. E' gli unici giorni che si possono stare insieme alla propria famiglia oppure sbagliarsi con gli amici. Canzone preferita? Attuale? Non so, non so, non so, nessuna. Canzone preferita in generale sono le canzoni latinoamericane. Programma televisivo? Programma televisivo o è che guardi? Autore della settimana per la sua famiglia è... Leita, i soliti gnotti o affari tua perché affari tu hai i miei figli con i soliti gnotti. Telefilm preferito? Sorelle. Sorelle. Poi cosa c'è anche che mi piace, un passo dal cielo, un passo dal cielo, poi cosa abbiamo altro, un telefono preferito, un passo dal cielo, ah che dice aiuti, ecco basta. Cartone preferito, Sailor Moon, Doraemon, Pretty, non ricordo più, tutti i cartoni del 2000, Mila e Shiro, dai 2000 ai 90. Telefilm preferito, cartone preferito, hai mai nuotato nuda o nuda? Non ho mai nuotato nuda, sono lì i disegni e costumi, è in Italia. Cartone preferito, allora, quando bevo, e ogni tanto mi capita ancora quando posso beve, allora, cartone preferito, Coca Malibu, Volker Red Bull, poi c'è un altro che non mi ricordo, è la vecchiaia. Poi, spazi praticati, nessuno, spazi preferiti da vedere in tv o da vivo, nessuno. Pasto, piso, pasta. Come ti vedi da qui a 10 anni, tra qui a 10 anni, quindi tra 31 anni, perché a luglio ne faccio 21, quindi sono 31 anni, mi vedrai un lavoro fisso, che è dura, con una famiglia. E con tanti animali, no? Cosa fai quando ti senti giù? Cosa faccio quando mi sento giù? Mi avevo in camera, chiudo la finestra, chiudo il belcone, perché adesso è aperto, il sole non c'è, quindi. Chiudo, e mi isolo, metto le cufflitte, e mi isolo, musica, palla, e mi isolo. Cosa fai quando... Eh? Parole che dici più spesso? Cazzo. Parole che dici più spesso? Eh, 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 non saprei. Non saprei la frase che dici. Cosa odio? Cosa odio? Odio è la falsità. Quindi la mancanza di sensibilità in un rapporto. Sia amicizia, che sia amore, che sia familiare. Odio. Chi odi, chi non sopporti, non sopporti nessuno, o meglio, forse c'è una persona, ma non so, non sto a dirlo. Qual è la cosa più bella che esista? La cosa più bella che esista è la famiglia e l'amore. E l'amicizia. A che ora vai a dormire? Allora, una media dalle undici alle tre. Quindi, li vai. O le undici, o alle mezzanotte, o alle una, alle due, alle tre. Ma proprio sto malissimo, anche a quest'ora che saranno le otto, dico. Destrosa, mancina, destrosa. Segnato peccale. Cancarino, quindi cancaro. Cancaro, santi cancro. Cancro. Punto debole. Il mio punto debole forse è il mio carattere. Il mio carattere e la mia famiglia è il mio punto debole. E gli ultimi. Loro sono i miei punti debole. Questo è diventato peggio. Boh. Scusatemi, è che non mi ho aggiunto un dubbio perché lo ho messo peggio. Vabbè. Dopo si sta. Il colo più brutto. Il colo più brutto. Ne ho tanti. Tanti legati al perito delle persone a mezzare. Quindi, ricordo il tutto. Il ricordo il più bello è la nascita dei miei cuginetti. Il matrimonio sia. Oddio, quel giorno. Mamma mia. La miglior qualità, la sincerità. Il peggior difetto è non essere sinceri, forse. Qualità che ti riconoscono. Essere buono. Essere gentile. Qualità che mi riconoscono. Saprei. Essere buono. Essere gentile. Essere disponibile. Quando le mie amici hanno bisogno. Ma comunque con grande famiglia. Il fatto che ti riconoscono. L'essere permaloso. L'essere permaloso. L'essere. Che me la prendo facilmente. Quindi sì. L'essere permaloso. Di cosa hai paura? La perdita di chi mi sta vicino. Che sia un parente. O che sia un amico. O che sia un futuro umano. Un futuro ragazzo. Cioè. Se fosse un ragazzo. Comunque la perdita di avere qualcuno. Ma è caro. O vicino. La perdita di avere qualcuno. Ma è caro. Poi. Un altro effetto. Che non mi attrabbiviscono. Ma ve lo dico io. E distrarmi. Quello è un difetto. Che alla fine. Da piccolo. Distrammi con qualsiasi cavoletta. Che abbia. Allora. Difetto che ti attrabbiviscono. Un obiettivo. L'obiettivo mio. È di riuscire a trovare un lavoro. Che tu prendi un persino alla mattina. E dare il buongiorno ai miei amici. L'ultimo pensiero a andare a letto. È. Se riuscirò a affrontare. Le prove. Che la vita è andata davanti. Un giorno dopo. Cosa guardi. Che cosa. La prima cosa che guardi in una persona del sesso posto. Credo. Credo. Sai. Non so rispondere a questa domanda. Quindi. Provo a dirvi a impatto. Gli occhi. Gli occhi. Io sono innamorata degli occhi. Non so perché. Ma sono innamorata degli occhi. La qualità che cerchi in una persona del sesso posto. È. Farmi. Star bene. Cioè. L'essere disponibile. Quando ho bisogno. Quando sono giù. Di farmi sentire. Che lui c'è. Che comunque posso contare su lui. Su suo appoggio. L'ultima persona. Aspetta. Non sono persa. Sai. Sai cantare. No. Per niente. Sono stonata. Cioè. Me la. Che pezzo. Sono stonata. Troppo buona. Credi in te stesso. A volte sì. A volte no. Pensi di essere attraente. Per niente. Non penso di essere attraente. Vado d'accordo con i tuoi genitori. Sì. Vado d'accordo con i miei genitori. Genitori. Anche se a volte li tirano. Ma li tirate proprio. Brutte. A che tal primo bacio? Credo sei anni. Però. Sì. A che tal la prima volta? A 17 anni. Ho detto 20 anni. Non ho preferito. Maschio. Max o Alex. Femina Henry. Meglio tenere mai. Ah. Meglio tentare. Ma poi pentirsi. O non tentare rimpiandolo. Tentare. Ma non pentirsi. Credo in il destino? Sì. Credo in Dio? Sì. Sangue freddo. Sangue caldo. Freddo. Estate e inverno. Vi direi inverno. Ma anche estate. Bene. Mare o montagna? Mare. Sei chiede l'escura? Sì. Sei per maloso? Per malosa? Sì. Cosa cambieresti in te? Il mio aspetto fisico. Hai mai rubato? No. Ammi il rischio? Sì. Ammi il rischio. Sai stare sola? Sì. Sei felice? Sì. Vuoi avere figli? Sì. Vuoi avere figli? Sì. Matrimonio e convivienza. Prima convivienza per matrimonio. Perché se dopo durante la convivienza vedi che non va d'accordo è l'ultimo di sposarsi. Perché se già non va d'accordo durante il matrimonio figuriamoci se non va già d'accordo con la convivienza figuriamoci il matrimonio. Poi essere o a parere essere. La bella o la bestia? Entrambe. A volte sai essere sia la bestia che la bella. Sai abbassare la testa? Sì. No, fatevi scherzi. Sì, sai abbassare la testa. L'emozione che più ti tocca? L'emozione che più mi tocca se vado a pensare? È il matrimonio di me zì e la nascita dei miei cuginetti. Cosa non faresti mai? Non faresti mai? Non so, perciò. È tutto perché la verità è solo e bisogna godersela. Cosa non perdoneresti mai? È l'unica cosa che non perdonerei mai. Tre desideri al genere della lampada. Non ve le dico perché i desideri si possono dire che altrimenti non si avevano. Ti sei rotta le palla a rispondere a questa domanda? No. Perché così almeno un po' voi mi conoscete. Ma do un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ah, e se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. E se volete altri video commentate qui sotto. Ciao ciao! 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 Grazie.